Investimenti di 6 milioni per il sociale, esattamente in quali settori vi siete concentrati? Ci siamo concentrati sulla ricerca per migliorare le cure in campo della neuro-oncologia con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e la professoressa Mastronuzzi che è a capo dell'unità di neuro-oncologia pediatrica infantile. È un progetto su cui crediamo moltissimo e su cui abbiamo lavorato per sostenerlo e di cui ringraziamo anche il Bambino Gesù per averci dato l'opportunità, il professor Locatelli che è a capo dell'equipe scientifica. Gli altri investimenti sono investimenti di economia sociale, sono investimenti sulla reinclusione e attività sul territorio a favore delle persone principalmente. Nel prossimo piano industriale pensate di aumentare la quota per il sociale che oggi è di 6 milioni? Assolutamente, nel prossimo piano industriale aumenteremo la quota di investimenti sociali e aumenteremo la nostra attività in generale su quelle che sono le attività che generano un impatto positivo a livello di economia sociale. Oggi si parla molto di un problema fitti, soprattutto qua a Milano. In questo campo avete in mente qualcosa per il futuro? Abbiamo in mente assolutamente di migliorare il rapporto vita privata-lavoro dei giovani laureati e che affronteranno magari un percorso ulteriore di specializzazione. Nascerà IFIS House, sarà una casa che potrà ospitare gratuitamente chiaramente i ragazzi che verranno scelti per questo programma e che potranno continuare a studiare, lavorare e a spese appunto della nostra banca. Grazie. Grazie.